in un saggio del 1934 dedicato ai problemi della psicoterapia jung scriveva che all'analista è richiesta una sensibilità artistica e diceva che maneggiare il materiale psichico richiede il massimo tatto e una sensibilità prossima a quella degli artisti cosa fa un artista e cosa fa l'artista psicologo suscita e promuove un atteggiamento creativo nel paziente trasformando le difficoltà e gli ostacoli in occasioni di crescita psicologica sapete se la nostra vita potesse fluire senza trovare ostacoli forse nessuno di noi si accorgerebbe di vivere così come ci rendiamo consapevoli dell'esistenza del nostro corpo soltanto quando qualche parte del corpo ci fa male stiamo dicendo che c'è una relazione tra le difficoltà della vita i nostri conflitti la consapevolezza e infine la nostra risposta creativa vediamo di capire meglio partiamo dal concetto che la vita è uno scontro inevitabile di molteplici elementi fra loro la conflittualità fa parte della vita è ineliminabile e si dice che è il paradigma stesso della vita e a questo paradigma si oppone un altro paradigma che è quello della pace della soddisfazione da un lato la tensione la difficoltà dall'altro la distensione e la soddisfazione aspirare al massimo della soddisfazione ci sembra una tendenza naturale per l'essere umano e l'esempio del paradiso terrestre è l'immagine che gli uomini hanno creato per descrivere questo stato di completata rassia in questa condizione ideale l'uomo è totalmente inconscio ma qualcosa ha permesso ad un certo punto di abbandonare l'eden per entrare come si suol dire nella storia l'uomo fa la storia nel momento in cui deve affrontare delle situazioni difficili la cui soluzione non appare né evidente né scontata l'uomo creativo è l'uomo che fa la storia ma l'uomo non è stato sempre creativo adamo ed eva avrebbero potuto rimanere per sempre nell'eden e in questo caso noi non saremmo qui a riproporci ancora una volta questo racconto tutto avrebbe potuto fluire identico a se stesso se qualcosa non avesse fatto irruzione ad un certo punto il serpente fa irruzione nella vita in una vita senza storia quella di adamo ed eva e quindi rompe la quiete e consente al pensiero di nascere allo stesso modo anche la creatività deve aver fatto irruzione sulla terra come una sorta di destino che sconvolge ogni equilibrio rompendo l'ordine costituito da madre natura quindi rompendo lo status quo che viene sconvolto prima abbiamo parlato di atarassia che significa assenza di turbamento e cioè uno stato di quiete che corrisponde al paradiso terrestre cioè una condizione senza problemi e senza turbamenti quindi senza la necessità del pensiero quando questo equilibrio si spezza ecco che compare il pensiero e compare la creatività cioè un pensiero critico particolarmente produttivo che mira a risolvere i problemi dell'uomo ma l'uomo non è stato sempre creativo è diventato creativo quando ha dovuto risolvere dei problemi e quando è cominciata ad emergere una coscienza individuale frutto di una tensione psichica tra l'io della mente conscia e l'inconscio la polarità ed il conflitto sono dunque l'origine della creatività il conflitto è la dimora dei processi creativi e la capacità di convivere con il conflitto è un presupposto dell'uomo creativo il poeta romantico inglese kids definisce questa capacità come capacità negativa che corrisponde ad un tratto caratteriale della personalità creativa ovvero la sua capacità di tollerare l'ambiguità quindi l'indefinito il dubbio e quindi il conflitto dunque questa capacità negativa è una sorta di tolleranza all'ambiguità e alla tensione la maggior parte dei uomini riesce a sopportare una tensione causata da un problema irrisolto soltanto per un certo arco di tempo un tempo relativamente breve e di conseguenza rinuncia ad una sua soluzione valida il creativo invece ha un limite di sopportazione più elevato e porta con sé questo problema irrisolto per lungo tempo senza sentirsi troppo irritato e continuando in sottofondo il suo lavoro per risolverlo la persona creativa sa ascoltare ogni impressione e dà spazio ai sentimenti dentro di sé nella penombra dell'inconscio nel luogo dell'indicibile oltre la ragione dell'io attendendo pazientemente il parto di una nuova chiarezza la personalità creativa sa dimorare nel negativo in ciò che sembra negare l'assetto dell'io che vuole chiarezza l'io non gradisce il conflitto preferisce la logica e la razionalità dunque possiamo dire che il conflitto rappresenta la forza motivazionale all'origine della creatività e all'origine di ogni opera d'arte ognuno di noi si deve confrontare con un particolare conflitto che è rappresentato da un ostacolo o da un problema che ci mette in rapporto con la nostra difficoltà con una difficoltà che ci compete però che è nostra e di nessun altro una difficoltà individuale e dobbiamo sapere che uno dei momenti più importanti della vita si manifesta quando iniziamo a riconoscere il significato di ciò che ci accade quando cioè comprendiamo che certi sviluppi degli eventi e certe difficoltà ci appartengono questi sono momenti strutturanti perché ci fanno capire come la vita possa avere un significato nel momento in cui comprendiamo il senso delle difficoltà che noi incontriamo durante il nostro cammino e si tratta di situazioni assolutamente personali per cui sarebbe inutile invidiare l'erba del vicino o invidiare la vita di un altro sarebbe un errore psicologico gravissimo perché andremmo ad idealizzare un destino che non ci appartiene e che è estraneo al nostro modo di essere ognuno deve trovare la propria via pena l'alienazione da noi stessi se la concepiamo in questo modo la frustrazione si colloca alla base dell'esistenza e si impone come una condizione psicologica che struttura la nostra vita una vita senza frustrazione è un po come un muscolo che non ha alzato mai nessun peso ed è debole come il nostro fisico si sviluppa in maniera armonica in funzione delle fatiche che siamo costretti a compiere anche parlando della nostra vita psichica dovremmo pensare che si sviluppa in relazione agli esercizi che è chiamata a svolgere l'esercizio può spezzare una persona oppure può farla grande non è detto cioè che chi si getta da quattro metri d'altezza non debba rompersi le gambe però questa analogia ci deve far capire come la nostra vita psichica non si svilupperebbe affatto se noi non fossimo in un'epoca più o meno precoce testimoni di certe difficoltà del vivere la nostra crescita psicologica è un continuo sforzo attraverso il quale tutto ciò che non ha un senso acquista pian piano significato ogni evento della nostra vita è come la tessera di un mosaico che è composto di piccole pietre che in apparenza non hanno senso ma che se combinate sapientemente tra loro assumono un'immagine quel significato nel nostro caso va immaginato cioè va creato in altre parole gli episodi della nostra vita sono come le tessere di un mosaico che sta a noi concepire allora di fronte ad un evento negativo non ha senso dire la famosa frase ma proprio a me doveva capitare dobbiamo vedere questi eventi in una luce nuova come qualcosa che fa parte di un progetto esistenziale come il prodotto di una problematica con cui ci confrontiamo da sempre nel tentativo inconscio di risolverla dunque quella tessera quel particolare frammento di esistenza appartiene ad un quadro più ampio per cui se riusciamo a collocarlo nel giusto posto svelerà il suo singolare significato in questo modo possiamo accettare capire che è necessario dirottare quell'energia in un'altra direzione le persone banali si disperano nel momento in cui non riescono a superare gli ostacoli mentre persone di elevato valore psicologico comprendono che quel fallimento è il segno che la loro energia psichica deve essere impiegata in maniera più costruttiva ora secondo questo modello esistenziale tutto diventa più impegnativo e non c'è più posto per gli atteggiamenti superficiali perché l'approccio alla realtà è determinato dall'intenzione di riconoscere i significati degli eventi si tratta di una fruizione artistica dell'esistenza che presuppone però la ricerca di nuove relazioni tra gli accadimenti della vita grazie alle quali è possibile ridefinire in positivo anche un fatto negativo come ad esempio la morte di una persona cara uno psicologo deve sapere che è sempre possibile fare qualcosa non si dà mai una condizione di totale impossibilità bisogna sempre diffidare dell'atteggiamento rinunciatario insito nella tipica frase non c'è più niente da fare perché questa frase obbedisce all'istinto di morte a questo proposito l'imperatore Marco Aurelio diceva a nessun uomo accade qualcosa che egli non sia in grado di sopportare il buon dio non invia all'uomo difficoltà che non gli competono in altri termini in termini più psicologici potremmo dire che il valore di un uomo è dato dalle difficoltà che egli affronta e che lo fanno essere propositivo progettuale e creativo bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata e sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al 338 16 92 473 specificando il vostro nome il cognome gli orari preferiti poi potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 300 video e una serie di playlist sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia in bocca al lupo